Di Chakalai! Chaka 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 Allora ragazzi, bentornati al nuovo appuntamento di Bepp zapac su N.X.TV Original! Oggi Bepp ci mostra come fare il nostro super stencil di N.X.TV Seguite i consigli Il materiale da usare preferibilmente è un cartoncino abbastanza spesso in modo tale che col taglierino riesci a tagliarlo perfettamente Un taglierino Power La prima cosa da fare è collegarsi al sito www.myspace.com slash antxtv Dove trovate l'immagine, la salvate col tasto destro e la stampate preferibilmente su un cartoncino dimensione a 4 Paura, paura Beppe ma come posso fare per non sbagliare a fare questo stencil? Come faccio a farlo venire bene senza errori? Il segreto per riuscire ad essere molto più precisi è seguire sempre la linea nera Ragazzi fate bene posti, è molto importante lasciare questi supporti in modo tale che sia più preciso Pertetevi col taglierino per togliere la parte nera Il vostro stencil è pronto Antxtv, Bepp's Attack Mettetelo dove volete, sotto le pentole della mamma Ricordatevi che c'è anche chi c'è Antico, Antxtv Ora applicheremo lo stencil che il Beppe ha meticolosamente costruito Il nostro amico Efna è qui con noi Ci aiuterà a spingere lo stencil Fai vedere come si fa Power Ragazzi non perdetevi la prossima puntata di Bepp's Attack su Antxtv Power Antxtv Power Di Chaka Live Chaka 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 chaka